Sono oltre 80 i nuovi maestri del commercio premiati a Bari dall'associazione 50 e più di Confcommercio. 9 le aquile d'argento che hanno raggiunto almeno 25 anni di attività, 56 le aquile d'oro che hanno raggiunto almeno 40 anni di attività e 18 le aquile di diamante per 50 anni e più di attività. Agli operatori è andato lo storico riconoscimento per l'impegno e il ruolo dimostrato dagli operatori del terziario verso la società. Noi abbiamo un regolamento che è molto attento che prima preseleziona le persone che hanno compiuto almeno 25 anni di attività aquila d'argento, 40 d'oro, diamante, 50 e oltre. Stiamo anche pensando a un premio perché anche questa è una caratteristica dei commercianti che anche dopo il pensionamento continuano a lavorare, versare i contributi e ad essere parte attiva nelle aziende. L'iniziativa ha lo scopo di dare un riconoscimento agli associati che hanno contribuito alla produttività, al decoro e al prestigio della città offrendo un prezioso e qualificato servizio a tutta la cittadinanza. La premiazione si è svolta alla presenza di Carla Palone, assessore delle attività produttive del Comune di Bari e del vicepresidente di Confcommercio Giuseppe Aquilino. I commercianti ma tutti gli imprenditori della città hanno un ruolo fondamentale appunto in città, quella del sostegno dell'economia ma allo stesso tempo io dico sempre presidio di legalità, presidio sociale, un commerciante illumina con la vetrina un suolo pubblico, dà certezza quando si rientra a casa, quando quella insegna brilla di luce. L'amministrazione comunale è molto vicina ai commercianti anche con azioni mirate esclusivamente per loro. Quello che mi auguro è che i miei colleghi che oggi sono premiati siano stati in grado e capaci di fare un passaggio generazionale adeguato perché quello è il segreto della continuità delle aziende. Io tra l'altro sono un'aquila di diamante quindi la mia attività risale al 1800, un anno prima dell'Unità d'Italia.